di leggere messaggi dopo se mai vai allora Gino da Sassuolo scrive caro Semproni le è piaciuto il violino di Girardino e questo Gino deve sempre provare io a Giraldino glielo facevo dietro il violino al tuo Giraldino a rete le facevano il violino saluti dagli amici di quelle della volta Rosciano sempre forza Pescara li salutiamo tutti i ragazzi poi Sempro io non